La festa del Santo Protettore degli Animali cade il 17 gennaio, ma i festeggiamenti sono spesso rimandati alla domenica seguente. A Santa Maria degli Angeli è stato organizzato, come da tradizione, il Piatto di Sant'Antonio, un evento molto sentito dalla comunità. Al termine della Santa Messa, con investitura e giuramento dei priori entranti, in tantissimi hanno assistito alla processione solenne per le vie del paese, con la fanfara a cavallo della Polizia di Stato. Le autorità e le associazioni, per poi attendere la nota benedizione solenne degli animali e del pane, offerto dai priori serventi e distribuito dai priori entranti.